Pop Hub Basilicata mapperà tutti gli edifici dismessi, cioè inutilizzati, sottoutilizzati o in stato di abbandono, della regione Basilicata. Vuoi aiutarci? Cerca nella tua città, paese o quartiere gli edifici che vuoi segnalarci. Fotografali e usa Facebook o Instagram per mandarci le informazioni. Ricorda di usare sempre l'hashtag PopHubBuzz e di inserire l'indirizzo dell'edificio, città, via e numero civico. Oppure vai al sito pophub.it, registrati e carica le informazioni e le foto dell'edificio dismesso.